allora oggi continuiamo con gli algoritmi noti e oggi parliamo un po in approfondita di una tecnica chiamata ricerca binaria o binary search allora un problema classico è quello di avete una persona e volete indovinare il giorno in cui è nato quindi non il mese non l'anno solo il giorno e sappiamo che per forza di cose una persona deve essere nato in un giorno tra l'uno e il 31 perché il mese che c'ha più giorni ne ha 31 ok e quello che potete fare è fare a questa persona delle domande a cui però lui deve rispondere solamente sì o no quindi devono essere domande binarie devono essere domande booleane in un qualche senso la domanda è qual è il numero minimo di domande che posso fare a questa persona per indovinare la sua data cioè non la data il giorno in cui è nato e in secondo luogo quali sono queste domande beh un approccio per trovare la data di nascita di questo qua potrebbe essere chiedergli se è nato l'uno se è nato il due se è nato il tre se è nato il quattro se è nato il cinque e così via in questo modo sicuramente anche nel caso peggiore quindi il caso peggiore in questo caso che mi risponde no a tutte poi risponde sia alla 31 anche nel caso peggiore al massimo gli avrò fatto 31 domande e non 32 31 gli avrò fatto 31 domande ok la domanda è possiamo fare di meglio sì tendenzialmente sì come facciamo la tecnica è la seguente adesso prima nell'illustro e poi ne parliamo più approfonditamente la te la tecnica della binarie search è abbiamo un qualche spazio di ricerca ok mettiamo che questo è uno e questo è 31 sappiamo che la risposta che stiamo cercando è qua da qualche parte e la strategia è quella di bisezionare lo spazio di ricerca con ogni domanda cioè con ogni domanda vogliamo massimizzare lo spazio di ricerca che possiamo scartare per le prossime domande cosa intendo con questo che se noi usiamo come i template di domanda sei nato prima del ok sei nato prima del giorno x allora quando lui mi risponderà se ho un certo range di ricerca gli chiedo se sei nato prima del giorno x mettiamo il giorno x qua se lui mi risponde di sì allora sicuramente non può essere nato in tutto questo pezzo se lui mi risponde no allora sicuramente non può essere nato in tutto questo pezzo ok quindi la strategia è gli chiedo sei nato prima del 16 adesso ho preso 16 abbastanza in mezzo magari no è in mezzo perché 1 più 31 fa 32 diviso 2 fa 16 sei nato prima del 16 sì ok allora adesso possiamo dire che sicuramente la risposta non può essere in questo range sei nato prima dell'otto no allora non può essere in questo range sei nato prima del 12 no allora non può essere in questo range sei nato prima del 14 questo era un 44 non un 14 ok sei nato prima del 14 sì allora non può essere in questo range a questo punto abbiamo una cosa che è o 12 o 13 chiediamo sei nato prima del 13 no allora la risposta deve essere 13 quante domande abbiamo fatto 1 2 3 4 5 abbiamo fatto 5 domande sì 1 2 3 4 5 che sono i numeretti che ho scritto in mezzo quindi in 5 domande abbiamo indovinato che io in realtà è la mia data di nascita sono nato il 13 sono nato il 13 in realtà si può notare che non importa quale data avessimo preso cioè quale data fosse nata questa persona in 5 domande in 5 domande in al massimo 5 domande riuscivamo sempre a trovarla intuitivamente perché perché ogni volta stiamo dimezzando lo spazio di ricerca cosa vuol dire questo che noi dovremo andare avanti finché lo spazio di ricerca cioè quante opzioni ci sono non sarà una ma allora se iniziamo con 32 possibilità in realtà non sono 32 sono 31 ok se iniziamo con 31 possibilità allora se risponde sì alla prima domanda dovrebbero rimanere 15 dall'altra parte 16 ok poi a seconda di cosa è stata risposta la prima domanda ancora di qua ne rimarranno 7 di qua 8 di qua 8 di qua 8 sto simulando la risposta sì o no a senato prima del tot ovviamente se sono andato a sinistra di qua e quindi potrebbero essere solo le prime 15 la prossima domanda sarà con l'8 altrimenti sarà col 24 e così via quindi qua cosa sarà 3 4 qua 1 2 e qua si va sotto e fa 1 1 e quindi nel massimo 1 2 3 4 5 step arriviamo se fate anche da un'altra parte qua sarà 4 4 qua sarà 2 2 qua sarà 1 1 per qualunque per qualunque camminata diciamo in questo albero delle scelte il percorso massimo quindi quanti step dobbiamo fare al massimo per arrivare a uno spazio di ricerca di 1 sono 5 perché stiamo dimezzando ogni volta e quindi sappiamo che se stiamo dimezzando un numero n e vogliamo sapere quante volte dobbiamo dimezzarlo per arrivare a uno beh questa cosa sarà logaritmo in base 2 di n arrotondato per eccesso n era 31 logaritmo di 31 è 4 appunto qualcosa e quindi 5 infatti ci torna ok questa è la base della binary search ma una domanda potrebbe essere quando è che possiamo usare la binary search? possiamo sempre usarla? cioè se abbiamo uno spazio di ricerca possiamo sempre fare questa bisezione per trovare la risposta? la risposta è no non possiamo sempre usare la binary search per affrontare uno spazio di trovare qualcosa dove il problema è trovare qualcosa in uno spazio di ricerca non possiamo sempre farlo ci sono delle condizioni per cui possiamo farlo nello specifico la prima cosa da fare per capire se possiamo fare una binary search è intanto trovare una domanda booleana ok quindi una certa f di n che mi risponda a qualcosa che è quindi o sì o no quindi true o false tale che il numero che ci interessa di trovare cioè il valore di n che ci interessa trovare si possa esprimere in questo modo se noi facciamo un plot della funzione sul nostro spazio di ricerca quindi per esempio mettiamo che il nostro spazio di ricerca è quello delle date quindi abbiamo da 1 a 31 ok se noi plottiamo la nostra funzione la nostra domanda quindi nel nostro caso era sei nato prima del x prima del giorno x se noi plottiamo e quindi per ogni possibile giorno quindi qua abbiamo 2, 3, 4, 5 questo non è un 5 questo è un altro 4 5 papapam fino a 29, 30 ok se noi scriviamo in ciascuna posizione quanto vale la funzione e facciamo che uso un 1 per sì e uno 0 per no ok e tra l'altro non vedo perché ho dovuto mettere questo qua sopra questo qua andava sotto come tutti gli altri perché sono gli stremi di ricerca ma sono normali i numeri anche loro ok 31 ok vediamo cosa succede mettiamo che sono nato il 13 anzi sono nato il 13 assumiamo che la data che sta in cercando è il 13 come si comporta questa funzione? beh farà 1, 1, 1 perché ah no scusatemi scusatemi sei nato prima del 1 no 0 perdon non era 1 perché sono nato il 13 quindi la risposta è no 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 eccetera eccetera fino a quando nel 13 avremo un no perché sei nato prima del 13 no perché sono nato il 13 e poi dal 14 in poi sarà sempre 1 ok allora possiamo fare binary search solamente quando la funzione della domanda quindi la funzione la funzione è la domanda a cui rispondiamo sì o no che deve essere per forza economia per forza 1 e 0 la risposta è booleana si comporta in questo modo prima sono tutti zeri e poi da una certa in poi sono tutti uni quindi la risposta sarà no fino a una certa soglia e poi da quella soglia in poi sarà sempre sì e possiamo usare la binary search solamente quando la funzione di ricerca cioè quella funzione che ci dice sì o no a una certa domanda si comporta in questo modo e cosa succederà? che quando noi facciamo questa binary search adesso vediamo un pochino più in dettaglio come farla un pochino più sistematicamente troveremo il punto in cui cambia da no a sì troveremo questo punto in un passo logaritmico di step rispetto alla dimensione dello spazio di ricerca è una volta che abbiamo trovato il punto dove cambia se cercavamo, come in questo caso, il valore massimo che diceva no perché chiedo se è nato prima dell'x stiamo cercando il più grande valore che ci dice no allora cosa farò? prenderò lo 0, l'ultimo 0 altrimenti se cerco il più piccolo valore che ci dice sì ad esempio se la domanda fosse stata se è nato prima o esattamente quel giorno è ancora una domanda binaria avrebbe quello che sarebbe che rispondeva sì anche qua in quel caso prendiamo il primo dei sì quindi a seconda di come stiamo ponendo la domanda potrebbe interessarci o l'ultimo dei no o il primo dei sì ok quindi finora cosa abbiamo detto abbiamo un problema dove abbiamo uno spazio di ricerca dove possiamo fare una domanda binaria che si comporta in questo modo quindi sarà no fino a un certo punto del dominio e poi sì da lì in poi la risposta al nostro problema deve essere o l'ultimo dei no o il primo dei sì rispetto alla domanda che abbiamo fatto ok e vediamo in modo un pochino più sistematico come come si implementa di solito questa cosa normalmente se guardate implementazioni online ma è un po' la parassi quello che si fa è che si dichiarano due variabili chiamate di solito low e high low è un valore che è talmente piccolo che la risposta è sicuramente no ok quindi sicuramente per la risposta per la domanda del se è nato prima del giorno x allora lo può essere sicuramente inizializzato a 1 perché non può essere mai nato prima dell'1 quindi la risposta è sicuramente no high invece è un valore talmente alto che la risposta è sicuramente sì in questo caso qual è? e in questo caso attenzione è 32 non è 31 perché 31 la risposta potrebbe essere no perché se è nato il 31 la risposta è no quindi high deve essere un valore magari non è valido high può essere non valido non ci interessa che sia valido o meno ma deve essere un valore talmente alto che la risposta è per forza sì ok e dopo cosa si fa? diciamo che finché o mentre dipende come traducete while in italiano finché l'o più 1 è minore di high ok allora continuiamo la banal research io adesso vi sto dando solamente un possibile pattern di implementazione di una banal research però la banal research è una di quelle cose tricky che bisogna avere uno schema preciso in testa perché se no è facilissima da buggare cosa vuol dire questo low più high low più 1 minore di high cioè stiamo continuando finché il box diciamo di dove puntano low e high non diventa grosso 2 cioè low più 1 minore di high vuol dire palesemente finché lo spazio di ricerca non è diventato 2 perché a questo punto abbiamo quel famoso gap cioè abbiamo lo 0 da una parte e l'uno dall'altra e quindi poi possiamo scegliere che la risposta sia low o high in base a in base a se stavano cercando l'ultimo no o il primo sì di solito le domande è meglio farle in modo che si cerchi l'ultimo no perché in questo modo si può inizializzare high a qualcosa di invalido perché tanto anche se rimane invalido non lo prenderemo mai come funziona poi nella balance search di solito si dichiara una variabile mid che diciamo essere uguale a low più high mezzi ovviamente questa è una divisione intera quindi potrebbe essere arrotondata per difetto e dopodiché quello che facciamo è che ci chiediamo abbiamo la nostra funzione quindi f di n ok che ci risponde no o sì e quindi diciamo beh se f di n ok quindi se è vero se ci ha risposto vero cosa stiamo ah perdono non di n ma di mid quindi ci facciamo la domanda sul mid quindi sul sul valore intermedio che abbiamo selezionato come media dei due valori l'oei ci facciamo la domanda su mid e cosa può succedere che la risposta può essere sì o no beh se la risposta è sì cosa vuol dire che mid ok mid è un 1 ma allora ma allora cos'era che era ricordiamoci che teniamo lo sempre su uno zero e i sempre su uno ok f di mid ci dice se mid è un uno o uno zero in questo caso ci ha detto che un uno mid è un uno if f di mid vuol dire che questo è il branch in cui mid è un uno cosa vuol dire vuol dire che allora possiamo far avvicinare il valore di high ok perché se mid è un uno quindi avevamo il nostro spazio di ricerca facciamo che lo è qua high è qua sappiamo che lo è uno zero e sappiamo che high è un uno ok cioè che il f di lo è zero ed f di high è uno ci facciamo la domanda su mid che è la media dei due valori in questo caso abbiamo detto che è uno ma allora possiamo spostare high dove è mid altrimenti cosa possiamo fare beh sappiamo che mid è uno zero ma allora possiamo spostare low a mid se questo qua è uno zero e quindi low uguale mid e fine e questa questo è il pattern con cui perlomeno io ma è molto usato si implementa la binary search ci sono altri modi per implementarla questo secondo me è molto pulito e se si fa la domanda in modo che quello che stiamo cercando è l'ultimo zero ok allora alla fine semplicemente la risposta sarà data da low in low ci sarà la risposta ok scusa dimmi mi interessa perché mi ha laggato credo solo a me quando fai high o low uguale a mid cosa fa sto nel senso mid è un numero low l'ho inizializzato a 1 questo è questo è il caso qua sto implementando il pseudocodice per il come si chiama per indovinare la data di compleanno low e high sono i due come si chiama i due round quindi low è il più grande valore per cui sappiamo che f di low fa 0 e high è il più piccolo valore per cui sappiamo che f di high fa 1 inizialmente li inizializziamo ai due estremi in modo che sappiamo per forza a priori che fanno 0 e 1 dopodiché quello che facciamo è che finché il box che c'è lo spazio finché lo spazio di ricerca non diventa grosso 2 ok quindi quando è che diventa grosso 2 quando l'op1 è minore di high cioè perdono quando contrario quando l'op1 è maggiore o uguale a high ok in quel caso è diventato grosso 2 è diventato 2 e quindi ci fermiamo perché abbiamo trovato il nostro dove si trova il gap e quindi possiamo rispondere cosa faccio se il box non è grosso 2 se lo spazio di ricerca non è grosso 2 calcolo mid come la media dei due faccio la domanda su mid se la domanda mi ha risposto vero allora vuol dire che mid è 1 allora sposto high su mid questo è un assegnamento un normale assegnamento se è falso allora so che mid è 1 0 allora sposto low su mid per la definizione che abbiamo detto di high e low high è il più piccolo valore di n perché sappiamo che f di high da 1 low è il più grande invece che da 0 una volta che abbiamo trovato il vero più grande e il vero più piccolo il vero più grande che da 0 e il vero più piccolo che da 1 abbiamo trovato il gap cioè abbiamo trovato dove passa da 0 a 1 e a quel punto sappiamo nel nostro caso che stavamo cercando il più grande 0 cioè lo 0 più a destra sappiamo che la risposta quindi sarà in low perché low è proprio l'ultimo 0 è l'ultima domanda alla cui risposta la no ok bene quindi ci siamo detti ok ricordiamoci che la cosa importante è che sta sta funzione sia fatta in modo che da 0 0 0 0 e poi è lanciata da 1 1 1 e va avanti così all'infinito ok quindi ovviamente questa la ricerca binaria è la migliore ricerca nel caso in cui il vettore si è già ordinato sì un attimo allora cioè sì sì allora F F può essere arbitrariamente complessa nel nostro caso adesso F era un e potrebbe essere proprio una domanda che fai un umano in questo momento questo è il pseudo codice quindi nel senso però F può essere arbitrariamente complicata nello specifico come come ci ha detto uno degli usi che si fa della banner search ok questo però è un blueprint generale per usare la banner search non è detto che debba essere usato in uno dei casi specifici che stiamo trattando ci sono problemi dove magari l'esposta si trova tramite banner search ed F è qualcos'altro ci sono tanti problemi dove F è magari una programmazione dinamica ok e si fa una banner search su un qualche parametro di una programmazione dinamica capita quindi è solo una questione di capire è solo una questione di capire se possiamo applicare una banner search se abbiamo uno grosso spazio di ricerca se possiamo applicarla ad esempio ad esempio una delle cose per cui si usa la banner search più frequentemente è se abbiamo un vettore di numeri ok tipo che ne so 0 3 5 7 9 11 13 33 se abbiamo un vettore di numeri e questo vettore di numeri è ordinato ok allora possiamo applicare la banner search per verificare se un certo numero è dentro questo vettore per esempio mettiamo che ci chiediamo se il numero 9 è all'interno di questo vettore come facciamo ad applicare la binary search beh un modo ad esempio potrebbe essere cercare qual è il più qual è il più grande numero anzi qual è il più piccolo numero che è maggiore uguale a 9 per esempio per esempio possiamo chiederci anzi possiamo chiederci questo numero è minore uguale a 9 questa è un'altra domanda legittima ok potremmo chiederci per esempio questo numero è minore uguale a 9 numero x certo numero x questa dovrebbe essere la domanda la nostra f di x o ad esempio se vogliamo farla come in realtà adesso la sto girando giusto per avercela nello stesso modo di prima facciamo che mi chiedo se questo numero è maggiore del numero che stiamo cercando non se è minore ok allora recap quindi abbiamo un vettore di numeri ordinati vogliamo sapere se un certo elemento facciamo il 9 esiste se è dentro questo vettore allora come domanda come f potremmo chiederci f di un certo indice del vettore e facciamo allora che siamo un po' più precise chiamiamo questo vettore a e quindi la domanda è f di x e la domanda definita come a di x quindi a alla posizione x è maggiore di 9 sì o no facciamo finta di applicare questa funzione a tutti per verificare se possiamo farci una banale di search 0 è maggiore di 9 no 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 sì sì quindi abbiamo visto che la funzione si comporta giusta cioè nel senso c'ha tutti i zeri e poi c'ha tutti i uni notare che anche se fosse stato il contrario cioè se aveva tutti i uni e poi tutti i zeri andava venendo lo stesso perché basta girare il ragionamento e funziona uguale a questo punto cosa possiamo fare possiamo applicare la banale di search ok alla fine ci rimarrà il box di dove passa da 0 a 1 quindi ci rimarrà questo pezzo qua ok e cosa facciamo guardiamo il low cioè l'ultimo 0 e guardiamo se è uguale a 9 e con questo abbiamo la nostra risposta come ho detto la banale di search ci mette tempo quanto tempo ci metterà ci metterà un numero logaritmico di passi rispetto allo spazio di ricerca ok attenzione però per la complessità della funzione di check ovviamente adesso qua per esempio questa qua era un maggiore ok e quindi controllare il suo numero maggiore di un altro ci mette tempo costante e quindi in questo caso la binary search di un elemento in un vettore ci metterà o grande di log n però se la funzione è complicata sarà log n per quanto ci costa calcolare quella funzione perché ovviamente dobbiamo chiamarla quante volte log n volte ok a volte a volte non è banalissimo vedere qual è la funzione di qual è la domanda per fare una binary search facciamo un esempio mettiamo cosa posso fare mettiamo di avere una qualche funzione ok abbiamo una qualche funzione g di x ok che sappiamo che nel valore 0 vale meno qualcosa ok quindi parte da qua vale non so meno 1 sappiamo quindi alla coordinata 0 vale meno 1 sappiamo che alla coordinata 1 vale 1 ok sta funzione si comporta in modo bislacco quello che sappiamo è che continua la domanda è trova il valore di x che azzera questa funzione ok noi vogliamo trovare il valore di x che azzera la funzione e sappiamo che parte da meno 1 ok la funzione definita fra 0 e 1 parte da 0 arriva a 1 il valore y all'inizio è meno 1 il valore y alla fine è 1 la funzione continua quindi per forza di cosa deve avere uno 0 cioè deve passare da 0 per forza perché se no cosa fa va giù per il coso e poi torna su no non funziona così continua e quindi deve per forza passare in mezzo quindi passa per forza da 0 vogliamo trovare il punto dove vale 0 e ce ne ha solo eh perdono ha soltanto 1 0 potrebbe averne più di 1 e nel caso ne avesse più di 1 anzi disegniamola che ne ha più di 1 potrebbe averne più di 1 e nel caso in cui ne ha più di 1 quindi potrebbe fare così ok in questo caso ne ha 1 2 3 4 5 e vogliamo trovare uno qualunque ok ci basta trovarne uno qualunque però iniziamo ok questo caso è un pochino più difficile si può trattare anche lui ma è un pochino più difficile cominciamo con il caso semplice ok facciamo prima il caso semplice che ce ne ha solo 1 ok ha solo 1 0 bene qual è una domanda che possiamo farci per trovare dove si trova questo 0 domanda per voi se il valore a metà è sopra o sotto se c'è se l'ordinario scusami allora un attimo la domanda era poi continua a rispondere è sicuramente uno dei due Stefani della voce ma non so se è S o C ok allora intanto c'è più della domanda poi continua a rispondere Stefano C la domanda è abbiamo questa funzione che è continua parte da meno 1 arriva 1 dal punto cioè dalla coordina dalla X 0 parte a meno 1 e arriva alla X 1 con valore 1 sappiamo che tocca l'asse dell'X una volta sappiamo che è continua vogliamo trovare una funzione con cui possiamo fare una binary search per trovare il punto dove tocca l'asse dell'X ora Stefano C continua aspetta che vogliamo una ok ok sì ci sono vai la allora la funzione booleana deve essere qualcosa del tipo f di mid maggiore di di maggiore di 0 così se allora dimmelo in termini della terminologia che abbiamo adesso cioè noi vogliamo trovare questa funzione f di X ok se andiamo a vedere il valore in mezzo tra i e lo ma non ci interessa per ora cioè quello e poi come la usiamo cioè vogliamo solo una funzione che abbia quelle caratteristiche cioè che vale 0 fino ad 1 certa e poi vale 1 allora 0 è no giusto? 0 vorremmo che sia no esattamente allora la funzione sta sotto l'asse delle X direi il contrario in realtà cioè sta sopra l'asse delle X esatto cioè G di X è maggiore di 0? esatto ok perfetto perché questa cosa funziona? beh perché ovviamente tutto il primo pezzo darà false perché non è maggiore di 0 quindi se noi facciamo il grafichetto della funzione questa qua darà per un certo punto darà 0 ok e poi salterà 1 perché perché siamo andati sopra restiamo sopra e bene ok questo era il caso semplice questo era il caso semplice in questo modo troviamo alla fine in lo ci sarà il valore della X di dove si trova lo 0 questo è un algoritmo banale cioè è un algoritmo per casi banali per trovare la radice di una funzione la radice è il punto dove si è 0 però a volte quindi diciamo che quelle che abbiamo detto finora sono le condizioni strette per applicare la banale di search però a volte possiamo comunque applicare la banale di search anche se non valgono quelle condizioni ad esempio mettiamo di avere una funzione ok che potrebbe toccare più di una volta lo 0 non è detto che lo tocchi solo una volta potrebbe toccare più di una volta e mettiamo che il nostro compito è trovare almeno un 1 0 vogliamo trovarne uno qualunque non ci interessa quale ora se noi manteniamo la stessa domanda ok facciamo che in rosso disegniamo quanto vale il la funzione f di x quindi qua ci sarà un pezzo dove vale 0 qua varrà 1 qua varrà 0 qua varrà 1 qua varrà 0 e qua varrà 1 ok quindi è un po' un casino è un po' un casino sembrerebbe che non possiamo fare una binary search così e basta perché per le regole che ci siamo detti finora sta funzione non è non fa tutti i 0 e poi tutti i 1 perché oscilla c'ha un po' di 0 un po' di 1 un po' di 0 un po' di 1 e così via però in realtà l'informazione che stiamo cercando è un pochino più debole del di quello che la binary search garantisce se noi vogliamo trovare se ci sono tante soluzioni e sappiamo che una soluzione qualunque cioè un qualunque bound di 2 un qualunque box di 2 0 1 ci dà la risposta ok e in questo caso notare che ci sono degli zeri che sono hanno dei box 0 1 tipo questo questo qua passa da 0 a 1 e ci sono anche degli zeri che passano da 1 a 0 però sicuramente almeno 1 0 deve passare da 0 a 1 perché sappiamo che parte dal basso e va in alto quindi almeno 1 0 deve essere 0 1 quindi se ammettiamo se sappiamo che almeno 1 delle risposte che stiamo cercando deve passare da la f di x deve passare da 0 a 1 in quel punto quindi prima condizione e se ci va bene una qualunque delle risposte ok quindi una qualunque dei punti dove passa da 0 a 1 non ci interessa quale ce ne va bene una qualunque allora in realtà se facciamo la binary search uguale cioè proprio quella che abbiamo fatto finora va bene uguale se le condizioni le possiamo rilassare in questo modo allora la binary search funziona ugualmente perché cosa succederà? mettiamo che per esempio parte e dice che qua è mid ok e la funzione è da 0 quindi cosa succede? che stiamo spostando il low da qua a qua sarete d'accordo che ci siamo persi delle soluzioni perché ci siamo persi questa e ci siamo persi questa però essendo che il mid ha beccato una cosa che era 0 cioè che ha beccato una cosa che era 0 anche se spostiamo il low a in quel punto sapendo che high è in un 1 perché high in questo momento è qua e vale 1 allora per forza di cose deve succedere da qualche parte che passa da 0 a 1 e quindi anche se stiamo scartando alcune delle soluzioni finché ci va bene trovarne una qualunque ok di quelli che passano da 0 a 1 allora possiamo fare una binary search così senza dover cambiare niente perché tanto sicuramente finché abbiamo l'invariante che low sta in uno 0 e high sta in un 1 allora ci deve essere almeno un gap 0 a 1 tra questi due valori ok quindi questo è per dire che la binary search nel caso più stringente deve essere tutti 0 e tutti uni se possiamo fare queste assunzioni che ho detto adesso cioè ovvero che ci basta trovare un qualunque gap 0 a 1 ok ce ne va bene uno qualunque allora possiamo usare la binary search e ci metterà sempre logaritmo dello spazio di ricerca ok ci sono domande fino a qua no ok allora vi lascio un esercizio vi lascio un esercizio ovviamente per chi sta a scrivere codice nel senso poi di una certa faremo anche più codice allora non ci sarà più la scusante che gli esercizi sono solo per chi sa scrivere codice ma per caso tra quante lezioni ci saranno i grafi non ne ho la minima idea ok allora ma quante lezioni facciamo ancora a dirti la verità non lo so cioè io ho intenzione di farle finché non ho finito le cose da dirvi non ne ho ancora tantissime io stimo che in totale saranno una ventina questa è la decima oggi la mia stima è che ne farò ancora un paio su algoritmi noti poi ne farò un bel po' su teorie dei grafi e poi magari qualche esercitazione alla fine quindi stimo sulla ventina ok allora dicevo esercizio normalmente se voi volete calcolare la radice quadrata di un numero come fate? scrivete di solito c'è la funzione sqrt di n in qualunque linguaggio praticamente scrivete la radice quadrata di n e funziona addirittura addirittura alcuni linguaggi se volete calcolare la radice cubica di n beh allora c'è la funzione cbrt di n alcuni linguaggi ce l'hanno se volete calcolare la radice quadrata di n beh anche questo è facile perché potete fare sqrt di sqrt di n ok però per dire se dovreste calcolare la radice settima per dirne una di n come fate? in realtà si può comunque anche con le funzioni di libreria perché se vogliamo fare un pochino più gli smart basta fare pow di n alla un settimo che è la stessa cosa di dire radice settima di n bene l'esercizio invece è che senza usare alcuna funzione di libreria quindi vietato usare qualunque funzione di libreria matematica quindi sqrt cbrt pow exp qualunque altra cosa voglio che implementiate una funzione f di che ne so di xn ok dove x è un float quindi un numero con la virgola e n è un int quindi un numero intero ok che calcoli la radice ennesima di x quindi voglio che facciate una funzione fxn con x float e n int che calcoli il valore della radice ennesima di x senza usare nessuna funzione della libreria matematica del linguaggio che state usando ovviamente se vi do questo esercizio e se ho appena fatto la binary search qualcosa c'entrerà immagino magari qualcosa c'entrano queste due cose ok chiaro l'esercizio bene come te lo mandiamo chi lo fa mi manda il sorgente su telegram chi lo fa mi manda il sorgente su telegram per forza con la ricerca dicotomica lo dobbiamo fare se ti vede in un modo migliore cioè nel senso puoi farlo come vuoi basta che basta che sia ragionevolmente veloce ragionevolmente veloce in questo frangente vuol dire istantaneo cioè non ci deve cioè per qualunque valore di x e n che ci posso mettere dentro non deve metterci mai più di 100 millisecondi poi come viene implementato finché non si usa maf ok finché non si usano librerie mi va bene l'importante è che appunto sia veloce sia veloce tanto quanto le funzioni di libreria io vi consiglio di provare a pensare come farlo con una ricerca binaria ci sono altri modi se vi viene in mente qualche altro modo efficiente prego non c'è problema e basta questo è l'esercizio ma posso chiederti una domandina veloce di rispiegare una cosa veloce veloce è inerente a questa lezione o no? no una scorsa lezione vabbè dimmi e allora nella programmazione dinamica dobbiamo identificare caso base caso generale cioè allora stato e caso base e solo queste due cose c'erano o c'erano anche altre nella programmazione dinamica allora nella programmazione dinamica la prima cosa la prima cosa da fare è trovare la domanda a cui stiamo rispondendo cioè trovare la f trovare qual è la domanda a cui vogliamo rispondere insieme a trovare la domanda troviamo anche lo stato ok n m eccetera eccetera una volta che abbiamo trovato la domanda e lo stato ci chiediamo qual è il caso base quindi che so f 0 0 qualcosa ok e questo qua sarà qualche risposta arbitraria magari non 0 magari qualcosa altro 1 20 qualcosa di molto semplice comunque qualcosa cioè un caso in cui sapere rispondere in modo arbitrariamente veloce e poi ultimo pezzo è trovare il caso generale cioè per parametri generali ok trovare come spaccare questo problema in problemi più semplici poi ricomporli per trovare la risposta e come ultimissimo step trovare con che parametri dobbiamo chiamare la nostra funzione per risolvere il problema originale in tutto ciò senza mai dimenticarci di calcolare anche qual è la complessità della programmazione dinamica perché se è troppo lenta non va bene l'ultimo sarebbe l'ultimo scusami non lo posso dire trovare la complessità no l'ultimo step i parametri originali l'ultimo step è che una volta che abbiamo la domanda dobbiamo trovare che parametri dobbiamo passare a questa funzione per calcolare la risposta alla domanda originale cioè perché noi abbiamo fatto una domanda non è detto che sia la domanda la stessa domanda che fa il problema molto spesso lo è ma non è detto che lo sia nel caso in cui lo sia i parametri tendenzialmente sono quali dati al problema a volte invece vanno trasformati a volte non sono direttamente quelli però per dire abbiamo fatto quello dello zaino e nello zaino era se prendiamo i primi n oggetti e abbiamo usato la capacità c qual è il valore massimo che ci possiamo portare a casa in questo caso erano proprio i parametri dati dal problema in realtà credo che abbiamo sempre visto problemi dove erano proprio i parametri dati dal problema non abbiamo mai visto un caso diverso però capita a volte bisogna un attimo fare una trasformazione di parametri dati in input dal problema per invocare la programmazione dinamica tutte queste cose le trovo spiegate come tutte queste cose le trovi spiegate bene nelle registrazioni sicuramente sì sì sul tuo youtube sì ok grazie mille prego ok ci sono altre domande a quante cifre decimali approssimiamo per fare l'esercizio questa è una ottima domanda qui dove cioè mi sono dimenticato di specificarlo allora i float generalmente adesso questa è un'approssimazione crudissima sono arrivano fino a sette cifre di precisione decimale però è una super approssimazione questa qua quindi facciamo che voglio che il risultato non differisca da quello vero cioè voglio che la vostra funzione f di x n ok voglio che la differenza assoluta della vostra funzione f di x n meno il reale valore della radice ennesima di x sia minore di 10 alla meno 6 questo è solo un modo fancy per dire voglio almeno 6 cifre di precisione ok grazie ok va bene per oggi è tutto